come sempre un grande saluto amici del canale youtube Gianluca Rossi TV allora è arrivato un altro giocatore all'Inter però ovviamente non fa notizia perché ce l'aspettavamo da qualche giorno si tratta di Emil Audero che sarà ufficialmente il secondo portiere dell'Inter ricordiamo il primo Jan Sommer il terzo è Raffaele Di Gennaro visite anche per Lazar Samaric però ormai mi conoscete io aspetto gli annunci ufficiali non ci sono più dubbi sul fatto che Samaric sia un giocatore dell'Inter però che ci costa qualcuno ci corre dietro per dare l'annuncio ufficiale prima che lo faccia il club e quindi daremo l'annuncio ufficiale quando effettivamente poserà in sala cup esattamente come ha fatto Emil Audero per quanto riguarda il discorso attaccante devo dire che non ci sono grandi novità se non l'inserimento anche di Taremi centravanti iraniano del porto e anche di Arnautovic ma il Bologna per il momento fa muro mentre Esposito non va più al Verone forse va alla Sampdoria ecco se fosse rimasto Esposito inorganico allora avrei detto ai 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 è difficile trovare l'attaccante sicuramente non è facile però insomma stanno lavorando io ho mandato dei messaggi non mi hanno dato grandi risposte questo può essere inteso in due tipi due tipi di situazione dai pleni potenziali dell'Inter o è proprio il momento in cui stanno lavorando sotto traccia in grande silenzio oppure non ci sono novità di giornata ma effettivamente novità di giornata non ce ne sono la cosa che mi conforta da un certo punto di vista al di là dei nostri impazienti che coi quali mi confronto sempre sui social sembra che sta per finire il mondo no qualcuno mi è tornato a parlare di lukaku perché ridendo e scherzando anche sta cosa di lukaku alla juve sembra non chiudersi adesso io penso che magari il discorso del celsi possa essere soltanto un po strategico perché c'è molta distanza ovviamente sul conguaglio qualcun altro dice che è pronto a inserirsi il milan ma ragazzi ormai con lukaku entrare nella testa di lukaku è un'impresa impossibile io ci ho rinunciato da tempo tenete bene presente che la verità che lukaku ha indubbiamente complicato il mercato dell'inter perlomeno in attacco direi che centrocampo e difesa seguono invece profili diversi perché l'attaccante su quale faceva conto l'inter è lukaku ma onestamente io sono più realista del re sono abituato insomma a questi che baciano fintamente le maglie e poi rinnegano tutto quello che hanno fatto onestamente che lukaku vada da juve che lukaku vada al milan che lukaku vada dove volete voi non sono più nemmeno molto interessato l'unica cosa che noto è che mi pare che ci siano rallentamenti un po da tutte le parti allargando poi il discorso all'europa mi pare insomma che ci siano problemi anche su un bappé neymar kane insomma un po tutti hanno problemi in questo momento a piazzare i loro attaccanti quindi vediamo se poi ci sarà un effetto domino per cui si muoverà qualcuno come sempre accade poi si muoveranno tutti gli altri al di là di questo data l'ufficialità di audero questo 10 agosto è una giornata comunque per quanto mi riguarda anche di auguri di auguri a due amici che hanno fatto parte dell'inter e che voglio salutare con due video omaggi particolari il primo è il vicepresidente dell'inter javier zanetti compie 50 anni e pensate 28 anni della sua vita li ha trascorsi all'inter poi c'è gente che ti parla di bandiere ma non perde mai l'occasione per dire qualcosa su zanetti no invece io credo che zanetti sia stata l'ultima vera bandiera dell'inter e per questo voglio farvi un regalo siccome ebbi l'occasione di intervistarlo nel lontano 1995 era credo il 5 giugno un pomeriggio piovoso lui fu presentato insieme a sebastian rambert alla terrazza martini e allora il primo augurio che voglio fare è proprio a vie zanetti questo video omaggio che gli ho mandato personalmente oggi gli ho mandato gli auguri ci siamo parlati un po eccetera e insomma anche lui credo che il giorno in cui era arrivato all'inter nel 1995 quella giornata di giugno non avrebbe mai pensato di trascorrere 28 anni con ruoli diversi all'inter e quindi insomma questo il video maggio con i tanti auguri a zanetti a via zanetti per il suo mezzo secolo di vita l'eterno capitano pomeriggio da lupi con pioggia e grandine in piazza diaz tutti aspettano zanetti rambert ma prima di loro arriva silvio berlusconi che ha un ufficio proprio nel palazzo della terrazza martini sarà un derby europeo l'anno prossimo sarà un derby straordinario per il milan cosa bolle in pentola aspettiamo ha bisogno di chi conclude in gol il gran lavoro della squadra se io le dico casiraghi cosa mi risponde io dico perché no ma ecco le prime dichiarazioni dei due nuovi nerazzurri sono molto contento di essere qui quello che rappresenta in italia l'inter lo sanno tutti una squadra che ha vinto molto e che deve vincere ancora molto non voglio assolutamente sciupare questa possibilità e per questo sono pronto a lavorare con umiltà per conquistarmi un posto da titolare in questa squadra io posso giocare da prima da seconda punta non è importante il ruolo penso però di essere un giocatore che ha una caratteristica quella di lottare sempre di non darsi mai per vinto fino all'ultimo secondo di una partita nello stesso giorno di zanetti compie gli audio compie gli anni anche la cuccarini compie gli anni anche banderas compiono gli anni in tanti e voglio dire ma se restiamo al calcio e se restiamo all'inter un altro grande amico che compie gli anni è francesco ciccio colonnese che ha fatto parte dell'inter di gigi simoni difficile non essere affezionati a ciccio colonnese anche con lui mi sono sentito e anche a lui voglio dedicare questo video omaggio perché recentemente ci siamo sentiti quando l'inter prendeva tanti gol in difesa devo dire che la situazione anche dopo salisburgo intra può essere attualissima e ciccio mi ha detto una cosa che mi ha sempre fatto pensare una delle sue massime da coriaceo difensore mi ha detto ma perché i difensori di oggi costa moda di difendere di reparto no poi non si capisce mai di chi è la colpa per esempio sul primo gol preso dal salisburgo sbaglia barella con quel retropassaggio obbligando sommer ad avventurarsi fuori dai pali o sbagliano altri qui con sta storia che si difende sempre di reparto non si capisce mai di chi è la colpa quando si prende un gol e ciccio colonnese mai ha detto questa frase che mi ha fatto impazzire che io vorrei che venisse appesa sui muri dello spogliatoio dell'inter la frase poi la sentite anche tra poco nel video maggio detta da ciccio colonnese è la seguente io ciccio colonnese quando mi faceva gol il mio attaccante io mi vergognavo io rientravo negli spogliatoi e mi vergognavo di aver preso gol come difensore perché quell'uomo era mio e dovevo essere io il primo ad impedire che facesse gol ed è una frase insomma che magari è un pochino datata perché oggi abbiamo le mode il portiere deve uscire giocare coi piedi il difensore deve essere anche di costruzione io sono cresciuto in un calcio in cui il portiere doveva parare e il difensore doveva difendere insomma queste erano insomma le prime caratteristiche che dovevano avere questi due giocatori per ruolo ma sentite lo ciccio colonnese a proposito della vergogna di prendere gol che oggi forse i difensori moderni non provano più e non è un bene ciccio colonnese tanti auguri perché lui oggi ne fa 52 tu mi hai detto io quando prendevo un gol dal mio attaccante vuoi proseguire no io ho detto questo ho detto che l'evoluzione di questo calcio cambiato ha portato ha portato a perdere in più che mai proprio nei difensori la vergogna di rendersi conto che quando prendeva un gol poteva essere colpa tua perché adesso il difensore quando prende un gol non si sa mai dire la colpa perché perché non c'è più un'attenzione particolare nel nell'avversario c'è poca consapevolezza del ruolo si cerca di snaturare i difensori chiedendogli cose che non sono da difensori e quindi i difensori perde il dna che è quello di essere un giocatore che è sporco cattivo come dico io che si alzava le maniche e doveva tempestare mentalmente moralmente e anche fisicamente l'avversario perché ai tempi nostri era così il difensore forte è quello lì quello che non ti dà respiro che toglie tutte le sicurezze alla squadra avversaria agli attaccanti della squadra avversaria insomma mi sembrava giusto prendere omaggio anche al nostro passato al passato degli interisti veri quindi al capitano e vicepresidente javier zanetti che con l'inter ha vinto tutto avete sentito poi avete visto anche devo dire un giovane avioncito rambert i veri interisti se lo ricordano insomma quelli della mia generazione che hanno avuto fortuna e poi ciccio colonnese che ha sempre riconosciuto per carità di dio tutti i suoi limiti non si è mai sentito franz beckenbauer ma indubbiamente sapeva come interpretare il ruolo e questa è questa secondo me è una cosa che i ragazzi di oggi che giocano in difesa al di là dei nuovi compiti di costruzione di difendere di reparto dovrebbero imparare qui dalla francia come sempre un saluto ragazzi da gianluca rossi grazie per il grande seguito siete sempre tantissimi ad ascoltarmi la cosa mi fa molto piacere e quindi gianluca rossi tv finché potrà non vi lascerà ciao ragazzi viva l'inter